Sono Irene Semenzato, mi occupo dell'ufficio marketing e comunicazione di Enex. Enex è un'azienda nata nel 2004 che si occupa della progettazione e dello sviluppo di sistemi frigoriferi ad alta efficienza con fluidi naturali e della realizzazione di pompe di calore per il riscaldamento dell'acqua ad alte temperature. Siamo presenti sul mercato da più di dieci anni e fin dall'inizio dello sviluppo della tecnologia dei fluidi naturali abbiamo puntato sulla qualità. La nostra qualità è riscontrata soprattutto nel fatto che siamo presenti sul mercato con più di 500 impianti e possiamo dire che nel campo dei fluidi naturali siamo diventati un leader di settore. Utilizziamo SAM ERP2 dalla fine del 2008, quindi sono circa 7 anni. L'abbiamo utilizzato per integrare le attività di magazzino e l'area amministrativa. I vantaggi che ha comportato l'introduzione dei SAM ERP2 sono stati innanzitutto una riduzione degli errori umani che venivano fatti in precedenza quando i dati venivano gestiti con Excel o con database differenti a seconda di ogni singolo dipendente. Abbiamo ridotto i tempi di inserimento dati e tutta l'attività di gestione sia contabile sia di magazzino è diventata molto più fluida. Non ci sono ridondanze dei dati che quindi vengono raccolti unicamente dentro ERP2. A livello gestionale siamo in grado di recuperare i dati in maniera molto più rapida, ottimizzando la ricerca in base alle nostre necessità. Ultimamente abbiamo inserito la gestione del magazzino con i codici a barre. Questo ha permesso di snellire ulteriormente l'attività di gestione merci, comportando ulteriori vantaggi sia in termini di risparmio di tempo sia in termini di chiarezza delle informazioni. I punti di forza della soluzione offerta da Centro Software sono sicuramente l'adattabilità e la flessibilità che sono state offerte a Enix per assecondare le nostre esigenze.